Ciao, sono Federico Carozzi di Lenovo Italia. Ciao Federico, di che cosa ti occupi in Lenovo Italia? Mi occupo di tutti i prodotti, i PC, notebook, desktop, di tutti i prodotti a arrivare fino ai tablet o tutti i prodotti nuovi di realtà aumentata e realtà virtuale. Che giorno è oggi? Oggi è sabato ed è il secondo giorno di IFA. Raccontami cosa avete presentato qui a IFA 2017. A IFA 2017 abbiamo molte novità. La principale di tutte è sicuramente la nostra collaborazione con Disney, con Lucasfilm, che ci ha permesso di portare sul mercato il nuovo prodotto Jedi Challenge. Praticamente la possibilità attraverso la realtà aumentata di vivere l'esperienza del film di Star Wars. Quindi avete un caschetto, un visore, più la spada laser di Star Wars che permette di interagire direttamente con tutti i personaggi del famoso film. E di vivere finalmente l'esperienza che tutti gli amanti di questo film hanno sempre voluto vivere. Poi abbiamo presentato anche tutta la nuova realtà virtuale con il visore Explorer, quindi la possibilità di interagire in un mondo virtuale completamente nuovo, con tutta la possibilità della realtà virtuale. Più tutti i prodotti legati al design, principalmente la Yoga 920 e quindi con il nuovo design e col design anche esclusivo legato al design dell'OIED. Come mai avete deciso di distinguervi anche dal punto di vista del design con questa collaborazione? L'OIED che è l'Istituto Europeo del Design è uno dei principali istituti appunto che si occupano di design. Per noi il design è molto importante in quanto i prodotti si distinguono sempre di più grazie appunto al design stesso. Collaborare con l'OIED ci ha permesso di portare sul mercato un prodotto che si distingue completamente in quanto ha il back, la cover fatta completamente di glass, di vetro e all'interno avere un disegno che appunto è stato scelto all'interno di una gara che è stata fatta tra gli studenti dell'OIED, circa 130 studenti hanno partecipato a questa gara e alla fine è stato scelto un design che è quello che verrà appunto poi dopo portato sul mercato e ci permette appunto ancora di più di distinguerci grazie al design che è l'elemento per cui i consumatori scelgono sempre di più i prodotti. Cosa mi dici invece dei prodotti per il gaming? I prodotti gaming per noi sono molto importanti, da qualche anno stiamo appuntando tantissimo con il nostro brand che è Legion nella gamma dei prodotti del gaming appunto, sia con i prodotti notebook dove abbiamo una gamma molto ampia di prodotti 15 o 17 pollici fino ad arrivare ai desktop dove abbiamo in particolare uno dei prodotti che mi piace parlare che è il Cube che è un prodotto appunto a forma di cubo che si distingue molto da tutti quegli altri prodotti presenti sul mercato. Prodotti che sono indirizzati appunto a un pubblico specifico che è quello dei giocatori gaming quindi con caratteristiche di potenza e grafica molto avanzate. Non lo diciamo a nessuno ma dici qual è il prodotto che preferisci tra quelli che avete presentato? Sicuramente essendo un amante di Star Wars mi piacerebbe tantissimo e acquisterei subito il Lenovo Jedi Challenge perché è la possibilità appunto di vivere un'esperienza che tantissime persone hanno sempre vista all'interno del Finfi quando erano piccoline e adesso la possono vivere in tempo reale grazie alla nuova tecnologia che siamo riusciti a portare sul mercato. Grazie mille Federico per essere stato con noi. Salutaci con un ciao! Ciao, grazie a tutti! Grazie a tutti!